Ormai il Chacrone pubblica più canzoni che io video, insomma, quindi complimenti Chacrone, grande Chacra. Tra l'altro stavo notando la schermata di Spotify, molto bello il fatto che, chi lo sa, ha la copertina sul verde, forte e chiaro sul rosso, voilà, che è con la nuova marrone barra giallo, mentre 100 metri è blu. Non lo so, particolarità molto carina, voluto? Non credo, però vabbè, bella roba Chacra. Niente, detto questa puttanata iniziale, possiamo partire. Uo, gente, bentornati nel canale. Non hai neanche ancora messo l'iscrizione? Io ti ho visto, ti ho visto e ti sto vedendo e ti sto controllando, mettila. Dai, non ti costa niente girare quel cazzo di telefono e mettere l'iscrizione. Bene, ho visto che ora l'hai messo, grazie mille, magari anche la campanella. Signori, enema.com è lo sponsor del canale. Su enema.com potete trovare una valanga di giochi in offerta, mega scontati, insomma, il vostro portafoglio finalmente potrà respirare e non piangere più come solitamente fa, per colpa vostra. enema.com vi permette di acquistare tantissimi titoli e un po' di tutto, dalla Xbox, dalla Playstation, il PC e di tutto e di più, tutte le console. Su enema.com trovate dei bei videogiochi, insomma, nuovi, vecchi, tutti quelli che cercate, sono lì, a prezzi scontati. Inoltre hanno anche le card PSN Italia, scontate anch'esse, e con il mio codice sconto ve li portate a casa con un prezzo ancora più basso, quindi può essere una buona occasione per voi per risparmiare. Enema.com a parte, appunto, stiamo parlando di Chakra, con il nuovo pezzo, voilà, per l'appunto. Non è ancora uscito il video, però pazienza, voglio ascoltarmela perché voglio ascoltarmela. E niente, Chakrone, non ho neanche un testo sott'occhio, andiamo ad nasum ad katsum, quindi va bene così, e spero che la canzone possa essere una bella traccia come è stato 100 metri. Vai. Senti già che è suo il pezzo, impressionante. Avevo proprio bisogno di piangere, Chakra. Senti già che è stato 100 metri. Mi, che figa. Mi, che figa. Dimmi, sbagli a farti i tuoi squilli, perché hai fatto più sbagli, pensavo a quando ti aprirli. Cazzo, che roba. Che stile che ha, ragazzi. Cazzo, mi hai fatto che vuoi, era ciò che volevi, era non tirare. L'uomo pezzo, l'uomo pezzo, l'uomo pezzo, l'uomo pezzo, che vuoi, era ciò che volevi, era non tirare. Sì. Sì, le vene, cazzo, mi taglio per lungo. Oh. Godo come una merda. Wow. E come dico sempre, quando ascolto un pezzo di Chakra, quando ci faccio un video, il suo stile è unico e inimitabile. È proprio originalissimo. Secondo me è uno dei più originali che c'è in giro, Chakra. Parere mio personale. Sbaglierò. Però vaffanculo, secondo me, secondo me è così perché altri con il suo stile non ho mai sentiti, qui, in Italia, quantomeno. La produzione è di Haru, Kang Brulé e Chakra, ok? Quindi produzioni a sei mani, ok? Un cazzo di polipo. E adoro da morire, come lui ti risulta quasi straziante nel cantare, appunto, ste canzoni qui, che sono molto tristi, sono molto strazianti. Già di loro hanno un testo molto, molto introspettivo e molto depresso, ok? E lui, col modo che ha di cantartele, ti fa odiare la vita, ti fa odiare l'esistenza e tu dici, io non c'entro niente in questo pianeta, voglio morire. Certo, non è un gran messaggio. Ragazzi, ma che cazzo di cappelli ho? Me ne sono accorto solamente adesso, perdonatemi. Madonna, Dio, che cazzo è? Vabbè, lasciamo perdere. Puoi lasciarmi a casa, sono soffocato, tra l'approvazione di me stesso e di chi non ho mai amato. Tra le urla che c'ho in testa, più le tue non duro più. Eh? Tra le urla che c'ho in testa, più le tue non duro un altro anno. Overtincare mi fa male, ma mi sono mai sbagliato? No, no mai, ma mai non vedi. Forse siamo da buttare e lo siamo da mesi. Era tempo fa, ora siamo lontani, guarda ma non toccare. Guarda cosa mi hai fatto e voilà, era ciò che volevi e ora non ti va più. Perso nel buio del tuo urlo e tu puoi lasciarmi lì. Sacra vaffanculo. Dimmi, sbaglio a farti i tuoi squilli? Chi è che ha fatto più sbagli? Sì, pensavo a quando ad aprilli mi chiedevo i consigli sul futuro. Sul tuo ex, sul tuo culo ci dormivo così bene. Ora non è come sembra, il tuo voto aumenta e mi piace stare solo. Sì, da solo starò senza. Resti ferma, è l'una e mezza e più ti penso più la notte è così fredda. Cosa mi hai fatto? Brutta puttana. No, sto scherzando. No, però nel senso, vabbè, Chacrone, dai, ti appoggio. Pacca sulla spalla, se vuoi andiamo a ubriacarci da qualche parte. Niente, Chacra si conferma una bella penna e un bel cantante, secondo me. Un bel artista. Perché è unico, inimitabile, fa il suo. Sempre in sordina. Lui sempre molto tranquillo, però piano piano sta venendo fuori. E sono molto contento di questo perché credo se lo meriti. Io, vabbè, sono fan degli stalloni e comunque seguo Chacra dai tempi, davvero dei, credo anche prima dei freestyle con quegli stalloni, ok? E quindi ci tengo molto a supportarli, visto che ho modo comunque di arrivargli da fan. Ho piacere appunto a farlo perché merita, soprattutto. Quindi ecco, Chacrone, bella per te. Sempre il mio appoggio, come di consueto ormai. Quindi ecco, noi aspettiamo magari un EP, un dischetto magari. Può essere una buona idea, non si sa, fra qualche mese. Vediamo, insomma, dai. Ragazzi, non ho nient'altro da dire. Bella produzione, bel testo, molto profondo. Chacra, sempre originale, con suoni e stili sempre particolari. Ce lo vedrei molto bene con Onda Supreme, eh. Io ve la butto lì. Però, vabbè, questa è una mia idea. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo fra qualche giorno, forse già domani. Non ne ho idea, ma ci vediamo prossimamente. Quindi state connessi sul canale che sto cercando di ripigliarmi e tornare un po' più carico. Quindi ecco. E niente, statemi bene, mi raccomando, non drogatevi e andate a fare nel culo. Ciao!